allora rigiochiamo un'altra volta con l'earth pool dice turno 2 ma non so perché dice turno 2 anche se c'è pure se questa è la terza di papa john strofi non lo so non so perché dica turno 2 vabbè se vi fa piacere io andrei a guardare il calendario il calendario di champions d'europa e di conference che non so dove se vede programma settimanale no classifica può essere classifica no ci dice solo i nostri cazzo devo andare dove devo andare per vedere i gironi altri campionati scegli competizione no qui non dà non dà né champions né cosa scegli no non lo so non si può vedere vabbè andiamo a giocare pure questa non ci dovremmo avere problemi vigorelli stavolta parte dalla panchina così si impara filo cammo dal primo minuto devi è salito di uno bene molto bene va bene guidi non ce lo portiamo tanto a quanto pare sembra una mezza sola non mi piace vabbè ma portiamo solo no invece gioca d'amico pronti filo cammo che se non decide di darmi una gioia non so che fine farà non lo so non so proprio che fare con lui prova porca puttana devi mamma mia che bordata ha tirato benissimo coordinazione 10 mamma mia veramente di poco se la squadra che abbiamo incontrato prima non dovremmo avere problemi ma non lo filo adesso bravissimo ma i minieri il sinistro niente c'è solo gsa adesso solo gsa nei primi minuti del match non era fuori gioco oh ragazzi ah che cazzo dai e dai e dai e no sta così no mamma mia ragazzi i difensori oh mamma mia che si è mangiato questo niente guarda che bucio di culo devono passare per forza qui pallonio quando decide il computer dei falli passare per forza poi assicura maratona napi napi c'è un cazzo da fa guarda 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 deve passare per forza mamma mia meno male c'è Daniele in porta meno male c'è il mio portiere stanno ragazzi butta giù dai devi parti con la tua progressione devastante mannalo è bella vai ma te te prego ma te a pezzo di merda questa è rossa a pezzo di merda a pezzo di merda che merda eh a pezzo di merda appoggia il filogamo prova il destro bella carriero minieri piano vale piano cristo addio quella era golla da parte di filogamo perché lui non se lo mangia lui non è vigorelli quella andava dritta a rete bravo Stefano ma andava filogamo troppo lungo è buona la lavagna del quarto luogo indica punti un po' di recupero il filo schiava dai ci stiamo ci siamo dai stiamo a giocare pure con una monpio dai faccio un attimo una modifica minieri però sempre esterno destro però non me lo riconosce vigorelli a posto di filogamo dai vediamo se ha imparato la lezione l'arbitro da in via alla seconda metà della gara che abbiamo deciso abbiamo è buona no a fare il gioco non era per lui però era per carriero bravo stai però porca ma do attenzione attenzione agli inserimenti stiamo a giocare pure con una monpio bravissimo monk la cattiveria proprio ma no a russi non è che cazzo rompi il cazzo ogni volta muovi levi fuori gioco rompi il cazzo ogni volta comunque di testa c'è un problema c'è un problema in testa si resta in parità provano il possesso e levate dai devi ti prego devi però cazzo dai che buscio di culo gli eri imparsa addosso dai mia ah devono più a loro no vabbè ma che è fasci sto cazzo di pallone ragazzi stiamo attenti orco dio bravissimo bravo vigore ma annalo a minieri che ce l'ha ste cose ma annalo no vallè te prego te prego niente non si amavano più non si amavano più dai al 75esimo per favore bravo piano 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 ma annalo niente che cos'era guarda se me li pia se me li aggancia tosta il pallone parla rossi dai rossi ti prego rossi rossi per vigorelli ce l'ha fatta le punizioni servono e andiamo e che cazzo ma che tocca perde con amo in più oppure con amo in meno e addiamo grande rossi sempre uomo partita sempre decisivo rossi qui quanto hai aspettato lì mortacci come hai fatto pian corpo forza difensivo ultradifensivo tutti dietro 5 minuti iam famo si a staboni dai dai se prego arbitro fischio arbitro ti prego fischio ti prego arbitro dai 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 così andiamo al prossimo turno abbiamo giocato tutti discretamente bene e a parte 6.7 filogamo alla prossima non entra ora ciao 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 ciao